Sarà battaglia in tribunale. Francesco Totti e Ilari Blasi non hanno trovato un accordo, e quindi la separazione finirà nel modo peggiore, davanti a un giudice. Il Corriere della Sera, ha reso noti alcuni dettagli di quel che sta accadendo, e le massi cifre che ci sono in ballo, oltre a svelare i guadagni stellari dell'ex coppia. In tal ginepraio ci sono anche aneddoti che se non fossero tragici, sarebbero comici, come ad esempio la storia dei Rolex e delle borse. Secondo la versione di Totti, Ilari e suo padre avrebbero fatto sparire la sua collezione di orologi, lui, per ripicca e come merce di scambio, si sarebbe accaparrato le borse dell'ex moglie. Il nocciolo della questione sono i denari, nulla di nuovo sotto il sole. Milioni di addii sentimentali, stringi stringi, finiscono con guerre economiche. Lo si chiami come si vuole. Cinismo, avidità, materialismo eccetera eccetera. Ma questo è ciò che accade nel mondo reale. Le fiabe stanno scritte sui libri. Compreso ciò, ecco le carte in tavola per quel che riguarda il pupone, e la conduttrice in forza a Mediaset. Francesco ha guadagnato più o meno 84 milioni netti nel corso della sua carriera da calciatore. Il suo reddito ora è assai più basso, ma non certo roba da fame. A proprietà immobiliari, solo la casa dell'euro è quotata circa i 10 milioni, tra la villa di Sabaudia, e con le pubblicità, è testimonial della Volkswagen, dei gelati Grom, e di veri mobile, si mette in tasca. Uno dei suoi obiettivi attuali è recuperare il controllo della Longarina, il centro sportivo in mano a Roberto Blasi e Ivan Peruc, padre e cognato di Ilari. Con loro l'ex 10 della Roma non vuole più avere nulla a che fare. Come si diceva, adesso l'ultima parola spetta al tribunale. C'è poi la richiesta di Ilari che all'ex marito avrebbe chiesto 20 mila euro al mese di mantenimento. Se Totti ha guadagnato e guadagna ancora oggi cifre da capogiro, la Blasi non se la passa male. Sempre il Corriere della Sera, spiega che tra sponsore e programmi tv ha entrate tutt'altro che magre. Per ogni edizione dell'Isola dei Famosi, prenderebbe quasi un milione netto. A ciò si aggiungono gli spot televisivi e quelli social. Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, l'ex letterina di Passaparola è assai ricercata dai brand che pagano profumatamente.